Ladies and gentlemen, signore e signori, siamo qui presso You Nails & Beauty a Monte Rotondo e oggi Barbara ci farà vedere un bel massaggio decontratturante fatto su Eleonora so che ci saranno impastature e scollamenti, spero che vi piacerà a voi, io farò il cameraman Grazie a tutti 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 Massimo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti